eeeh ciao ragazzi io sono andy game e oggi sono qui in un nuovissimo video oggi siamo su una custom map che penso avrete già visto è un dropper si allora difficolti off non rompere e non cittare operatore questo qui e questi sono quelli che vanno aiuto benissimo andiamo subito stage 1 3d dropper livello 1 candy industry bene io non lo so fare il dropper ma perchè allora sto facendo questo lì ecco vuoi vedere che se stavo sempre al centro ce la facevo ho chiuso il cretino ah guarda le pixel art che figo va bene andiamo qui e facciamo subito il dropper forse ho capito dobbiamo dobbiamo andare un blocco più avanti ma nemmeno troppo cioè perché io allora ero andato troppo nooo mia ce l'ho quasi 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 nooo mia ce l'ho fatta raga ok ce l'ho fatta raga clic eeeh questo bottone ok e dopo killati ok ok ora lo risponiamo e livello 2 livello 2 ahia qua non promette bene assolutamente non promette è bene l'ho detto io che non promette bene ma di voi gli altri si possono fare ah si si possono fare guarda perché sei via con la lana c'è con il bottone beh io non so fare i dropper perché ho scelto di fare questa mappa perché perché comunque raga please consigliatemi nei commenti delle mappe belle da fare ma ce l'ho quasi ma ce l'ho quasi la mappa è bella da fare mi dovete dire il nome e dove si scarica così io posso giocarla allora qui vediamo ora cioè già si fa più difficile già è più una sfida oddio guarda che cosa per fortuna non sono andata a cadere da un'altra parte raga ho notato che se proprio non vuoi fare il dropper c'è il parkour bene può sembrare una cosa stupida ma farò il parkour e non sono riuscito a fare il parkour si però preferisco il parkour se uno mi deve chiedere al dropper preferisci il parkour si assolutamente perché c'erano un sacco di map parkour e io invece di scegliere quella ho scelto questa il dropper ma proprio ingegno ok adesso possiamo fare il parkour anche se questo sarà il parkour che non si riuscirà mai nella vita però 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 vabbè oddio 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 raga che cos'è ma che cos'è 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 troppo facile che cos'è che cos'è che cos'è che cos'è che cos'è forse forse è un po' più semplice quello 3 and bene ok no però sembra più semplice sembra più semplice questo perché è meno occupato da roba ok 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 però è impossibile almeno che non hai il feather falling almeno che non hai delle scarpe con feather falling o boh o le mele power se guardate ma veramente sei serio tu sei serio sei serio era così facile io io l'ho sfuggito sei serio in serio ma tu mi stai ma tu ma che mi stai narrando ma che mi stai narrando che mi stai narrando dai 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 ok 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 non so fare il drop capito non lo so fare se questa mappa dice che se non finisco i livelli in questo episodio lo continuo ma assolutamente no quando vuoi devo consumare una mappa del genere una mappa del genere una mappa cioè se dovrei dobbiamo rimanere al centro dobbiamo rimanere al centro qui ci sono due blocchi dobbiamo e proviamo così mamma mia mamma mia poi possiamo cliccare questo non so che serve e possiamo buttarci benissimo passiamo a un altro livello a un altro livello per esempio un livello questo no 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 ok ce l'ho fatta oddio l'ho più semplicemente previsto andiamocene subito da qui e passiamo all'altro che è un cantiere che cos'è no blood era andato vicino che dite era andato vicino si può dire devo usare solo questo blocco ok ce l'ho fatta dai questi erano semplicissimi li dovevano mettere li dovevano mettere per gli ultimi cioè voglio dire erano troppo facili e bene tentiamo un'ultima volta di fare questo dopo di che addio addio mappa di dropper dopo pure quell'altro e poi addio veramente addio veramente bello 3 and bene grazie 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 grazie